questa domenica la liturgia ci propone il vangelo delle beatitudini secondo nella versione di luca la prima cosa che mi affascina delle beatitudini e che penso che sia preziosissima e che invece tante volte rischiamo di perdere per strada è un'idea di bellezza di bene di felicità che sa tenere insieme il buio e la luce e questo è quello che veramente desideriamo anche se tante volte è più semplice dividere totalmente questi due ambiti quindi parlare di un dio di una bellezza di una felicità di un bene senza sfumature tutto luce e basta ma questo non è neanche quello che veramente desideriamo quello è finto è di plastica non tocca le profondità della nostra vita l'intensità della nostra vita e poi non è neanche reale invece quello che le beatitudini ci aiutano a custodire è questo crinale che è veramente delicato nel senso che davvero siamo fatti per il bene per la vita per la bellezza ma tutto questo ha uno spessore ha una profondità e la profondità nel se si dipinge si rende attraverso i chiaroscuri e così le beatitudini mi sembra che ci aiutino a custodire questo questa profondità della bellezza profondità della felicità profondità di dio che non è semplicemente tutto luce perché non ha più neanche tridimensionalità una cosa che è solo tutta luce invece è qualcosa di che tocca gli abissi più profondi che ci sono dentro di noi e da lì nasce una bellezza diversa una bellezza e una felicità che ha dentro anche tutta che non non perde tutta tutte le nostre contraddizioni tutte le nostre i nostri passaggi e questo penso che sia veramente preziosissimo tanto prezioso quanto facile appunto da da perdere e nella particolarità di quello che è il racconto di luca rispetto alle beatitudini e che insieme alle beatitudini ci sono anche i guai cioè alle beatitudini corrispondono dei guai no e penso che questo ci aiuti proprio a a capire meglio a sottolineare meglio quello che quelle beatitudini significano proprio anche nella prospettiva che dicevo cioè dopo aver detto beati voi poveri beati voi che ora avete fame eccetera dice guai a voi ricchi perché avete già ricevuto la vostra consolazione guai a voi che ora siete sazi perché avrete fame guai a voi che ora ridete perché sarete nel dolore piangerete guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi allo stesso modo infatti agivano i loro padri con i falsi profeti e mi sembra molto cioè a me piace tanto questa versione perché ci aiuta veramente a capire qual è il problema il problema non è essere ricchi il problema non è essere felici il problema non è essere sazi il problema è non riconoscere il desiderio che rimane e quindi far finta che va tutto bene limitare il desiderio perché almeno è a posto almeno siamo tranquilli però è guai a voi se non riconoscete che c'è ancora una fame dentro di voi che c'è ancora un cammino da percorrere che c'è ancora che non basta che non basta e quindi mi sembra veramente bellissimo perché queste beatitudini da un lato aprono una profondità nella bellezza nella felicità che non taglia via niente di noi e dall'altro aprono tengono sempre aperto un futuro tengono sempre aperto una via perché la pienezza non è mai piena la pienezza ha sempre ancora del cammino da compiere e così vi saluto e vi lascio con questa mia condivisione un abbraccio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti